Buongiorno a tutti e buon venerdì. Oggi è il 24 luglio e questo è il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave curata dai giornalisti dell'Amico del Popolo. In studio oggi Martina Reolonne. Andiamo quindi subito a dare uno sguardo alle notizie pubblicate sui quotidiani locali partendo dal Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura riprende la tematica che è stata affrontata ieri dai quotidiani, l'economia post-covid, aziende in difficoltà fatturato in calo del 20%. Secondo un'indagine di Confindustria il 77% delle imprese bellunesi lamenta forti perdite. Il consiglio del manager Gaio, l'unione fa la forza, date vita a tante piccole Essilor Lux, quindi sul modello di Luxottica. Altri lanci sempre dalla prima, si parla in questo caso anche di turismo in crisi, l'allarme dei ristoratori, aiuti statali o chiudiamo. La responsabile Ascom del settore parla chiaro, basta bonus spot, servono riforme e pagamenti rateizzati. E poi c'è una novità, in questo caso siamo a Cortine, Mondiali 2021, Sant'Andrea non è più il commissario, andremo a leggere poi l'articolo. E per quanto riguarda la ripresa della scuola a settembre, classi del Catullo in parrocchia prefabbricati per il Galilei. Ci sono lo studio per le scuole secondarie di secondo grado, le scuole superiori delle modalità per poter garantire l'avvio della scuola in tutta sicurezza, a partire appunto da settembre. A piedipagina c'è un lancio che riguarda la traversata del Cadore e la sistemazione di 75 km di sentieri tra Auronzo e Perarolo. Magnifica comunità e unione montane insieme per riprendere e migliorare la traversata del centro Cadore, l'itinerario pedonabile dei 75 km che partendo da Auronzo si conclude a Perarolo, pronto un intervento da 160.000 euro per sistemare i sentieri danneggiati da Vaglia, l'articolo è di Vittore Doro. La foto di copertina è dedicata alla tragedia che si è verificata pochi giorni fa, quasi una settimana fa ormai a Tricchiana, cioè la scomparsa di Giorgio Favero a Valmorelli lungo e commosso addio a Giorgio. I funerali si sono tenuti all'aperto, come avevamo già spiegato anche nei giorni scorsi, per permettere agli amici di partecipare all'ultimo addio, all'ultimo saluto al giovane Giorgio, 27 anni. Ciao boccia, non sta a far massa casin, l'assume, raccomande che il signor non si arrabbie. Le frasi lette in dialetto e con dolcezza da una donna del nucleo cinofino della sezione Ana di Belluno hanno accompagnato il lungo addio a Giorgio Favero. Andiamo proprio subito a leggere l'articolo a firma di Dante Damin a pagina 35 del Corriere delle Alpi. Eccoci qui. Le moto e l'igabue tutto il paese unito per l'addio a Giorgio Favero, siamo a Limana. La cerimonia è stata celebrata nel campo di Valmorel con il ricordo struggente di chi voleva bene al giovane 27enne scomparso tragicamente. Ciao boccia, non sta a far massa casin, l'assume, raccomande che il signor non si arrabbie. Le frasi lette in dialetto e con dolcezza da una donna del nucleo cinofilo fiammetta della sezione Ana di Belluno hanno accompagnato il lungo addio a Giorgio Favero che si è tenuto ieri. I funerali del 27enne di Valpiana scomparso nella notte tra sabato e domenica in seguito allo schianto della sua Citro NC2 contro il muretto di un'abitazione all'altezza del bivio per Saccona, Trichiana, si sono celebrati ieri pomeriggio agli impianti sportivi di Valmorel. Tante le persone che hanno voluto rendere l'ultimo omaggio al giovane, dagli amici e incocittadini fino alla situazione di volontariato per le quali Toccio, così veniva soprannominato da chi gli voleva bene, era sempre in prima linea, dalla protezione civile ai donatori di sangue e di organi. Tante le persone che hanno voluto essere presenti, troppe perché di posto non ce n'era abbastanza sotto il tendone allestito per la cerimonia. E così la gente si è collocata tutta attorno, chi ha appoggiato al muretto lungo la strada, chi al di sopra di essa, osservando la scena dall'altro. Altri invece sono rimasti lì vicino. Ai lati dell'altare c'erano due moto che Giorgio, meccanico di professione, amava tanto, una Vespa rossa e una moto più grande da cross di colore nero. Sullo sfondo un tabellone che riuniva le tante foto di momenti felici trascorsi in vita da Giorgio assieme agli amici e chi gli voleva bene, vissute tra allegria e spensieratezza tipiche della gioventù. L'articolo è corredato dalle fotografie, ci sono appunto le foto che mostrano l'altare e all'intorno le due moto che Giorgio amava tanto e dalle foto si vede anche quanta gente abbia deciso di partecipare ai funerali all'aperto del giovane. E poi c'è anche uno striscione, farai sempre parte dello staff raduno trattoristico Valmorel con un cartellone appunto firmato dai suoi amici, firmato appunto Prade, Alex, Luca, Francesca, Elena. Undici anni fa ha ricordato il nucleo cinofilo quando ti sei presentato nel gruppo con la volontà di essere uno di noi, Poi eri un ragazzo, sei cresciuto fino a diventare un uomo dimostrando vitalità, altruismo ed entusiasmo. Con il tuo canellacchi sei sempre stato presente e affidabile. Se mai mia figlia si fosse persa da qualche parte avrei voluto che fossi stato tu a cercarla. Finché questa squadra va a vita tu Giorgio avrai sempre un posto tra i nostri trofei. Il ragazzo ha quindi lasciato un vuoto incolmabile, un dolore grandissimo da parte dei familiari e di tutti i suoi amici, tutte le persone che gli volevano bene e che lo conoscevano. Le note della canzone di Ligabue, Urlando contro il cielo, hanno riecheggiato in campo, decretando così la fine del funerale con l'avvio della bara verso il carro funebre, che ha poi proseguito per la cremazione. Cambiamo argomento, chiudiamo questo triste capitolo e andiamo a leggere le notizie relative all'economia in provincia di Belluno. Lo anticipavamo prima nella lettura dei titoli di lancio sulla prima del Corriere delle Alpi. Per quanto riguarda i pubblici esercizi c'è il grido di allarme dei ristoratori, lo Stato ci aiuti o chiudiamo. Rossana Roma dell'Ascom dice I bonus spot non servono, chiediamo pagamenti rateizzabili e riforme. L'articolo l'intervista è a firma di Fabrizio Ruffini. Servono aiuti concreti per il settore della ristorazione o le difficoltà non si supereranno? Non è convinta Rossana Roma, presidente del sindacato dei pubblici esercizi di Confcommercio Belluno, che riassume così la situazione. Ci stiamo ancora leccando le ferite per quanto è successo con la chiusura e non servono bonus spot, ma riforme strutturali e la possibilità di rateizzare i pagamenti. Poi spiega quella che è la situazione attuale, che non è poi tanto distante per i ristoranti da quella degli altri esercizi pubblici. Ci sono giornate in cui si lavora più e altre in cui per essere ludio non si vede un gran movimento. Le viene chiesto quale pensa possa essere la soluzione a questa situazione. Oltre ad abbassare il costo di lavoro sarebbe importante e urgente bloccare ulteriormente i pagamenti fino a fine anno e rateizzarli in modo da permettere di affrontare la coda lunga della crisi, dice la Roma. Sicuramente è sacrosanta una critica forte alle parole della ministra Castelli, che dicendo che i ristoratori devono cambiare il lavoro per la crisi ha dimostrato di non sapere nulla di questo settore, mettendoli in cattiva luce proprio in un momento in cui la cucina italiana sta conquistando un primato assoluto nel mondo. Quindi molti lamentano ancora la mancanza di aiuti da parte dello Stato. La Roma dice di essere felice, che il settore è felice, che il governo abbia portato a casa un accordo con l'Europa e che ci siano questi nuovi soldi sul piatto. Ma rispetto ad altri paesi da noi non è stato fatto alcun tipo di programmazione su come spenderli concretamente. I ristoratori hanno bisogno di risposte subito perché a breve arriveranno le scadenze per i pagamenti e se non si è potuto incassare nulla non vedo come si possa resistere. Andiamo avanti e leggiamo la notizia a cui il Corriere delle Alpi aveva scelto di dedicare l'apertura, che è quella del fatturato in calo nel post-Covid, in difficoltà il 70% delle aziende. Parliamo sempre dell'economia e dell'indagine, in questo caso di Confindustria. Il crollo si aggira attorno al 20%, ma ci sono settori che reggono. Restiamo fiduciosi nella ripresa. Confindustria Dolomiti ha misurato la temperatura delle sue aziende, l'ha trovata alta anche se non irrimediabilmente drammatica. Nei mesi più acuti della pandemia e in quelli che la sta seguendo, il crollo della produzione è intorno al 20%, ma non per il default, nemmeno per quanto riguarda l'occupazione. Ovviamente bisogna considerare i singoli comparti, consiglia Andrea Ferrazzi, direttore. Le occhialerie danno segni di ripresa, seppur leggeri, e le aziende del fashion ancora no, lamentano il 40% in meno della produzione. La preoccupazione si legge a chiare lettere nei commenti del primo incontro di lezione della Lewis con Giovanni Gaio a raccomandare la necessità di aggregarsi, una delle strade più sicure per resistere, anzi per tornare a crescere. La Lewis, ricordiamo, è stata attivata a Belluno, nel capoluogo a Palazzo Bembo. Un'indagine della direzione di Confindustria, Dolomiti, certifica che durante il lockdown i fatturati sono calati in modo drammatico. In maggio, quindi, a poche settimane da una cauta ripresa, ben il 77,6% delle imprese ha dovuto fare i conti con una drastica contrazione del fatturato rispetto all'analogo mese del 2019. Il 77,6% è tantissimo, solo il 3,4% non ha ricevuto questa sverla. Ma attenzione, c'è un 18% di aziende che nel primo mese della ripartenza ha registrato una crescita del fatturato. E non solo realtà del comparto alimentare. Fasciarsi adesso la testa per quello che succederà in autunno nel 2021 non è da saggi, sottolinea il direttore. Ci sono imprenditori ancora fiduciosi nella ripresa. Da riscontri di Confindustria, le aziende in queste settimane stanno galleggiando. Ovviamente c'è chi è più in difficoltà e chi ha ordini e lavoro. Dal nostro sondaggio, comunque, emerge che la metà si aspetta una ripresa già nel 2020, mentre l'altra metà ritiene che si dovrà attendere il 2021. E l'appello, come dicevamo, che è stato fatto è quello di aggregarsi. Il primo giorno della lezione della LUIS, Giovanni Gaio ha raccomandato alle imprese di aggregarsi, che è una delle strade più sicure per poter resistere e tornare a crescere. Torniamo indietro e leggiamo la notizia che riguarda le scuole. È la prima pagina di Belluno, con un articolo a firma di Alessia Forzin. Il ritorno a scuola dopo il Covid, studenti del Catullo, ospiti della parrocchia, al Galilei si pensa ai moduli prefabbricati. La provincia ha il lavoro per adeguare gli istituti. Il consigliere delegato sarà nella Bogana. Ottimizziamo le strutture per settembre, saremo pronti. Quindi c'è un articolo che riporta per le diverse zone del territorio provinciale gli interventi che sono previsti. Non abbiamo edifici in cui poter eventualmente dislocare alcune classi, spiega la consigliera delegata all'edilizia scolastica, Serenella Bogana. Quindi stiamo lavorando per ottimizzare le strutture che abbiamo e adeguare le linee guida per la ripresa delle lezioni. Per esempio, le scuole del Feltrino sono a posto, preoccupano invece alcune situazioni a Belluno, in particolare quella del liceo Galilei. E a Belluno, come dicevamo, i lavori previsti all'istituto Brustolon, che avrebbero comportato la chiusura della scuola e lo spostamento degli allievi, slitteranno al prossimo anno per non creare ulteriori criticità. Per quanto riguarda il Catullo, la parrocchia di Loreto ha messo a disposizione degli spazi di sua proprietà, dove ricaveremo alcune aule, illustra Bogana. La situazione che più preoccupa è quella del liceo Galilei. L'edificio non è nato per essere una scuola ed è stato adattato a tale scopo. Ma le aule sono piccole e gli studenti molto numerosi, perché questa scuola ha avuto un boom di iscritti negli ultimi anni. Stiamo valutando con i presidi di installare alcune strutture esterne per aumentare le aule. Ecco quindi che si parla appunto di moduli prefabbricati. Spostandosi in Agordino e Cadore, al Fermi di Pieve, servono alcuni piccoli lavori di manutenzione. Al Dolomie di Longarone va sistemato il convitto, dove sarà rimossa la mochette. Le scuole della Gordino non hanno segnalato particolari esigenze in vista di settembre. E per quanto riguarda i costi, per ora la provincia ha stanziato 800 mila euro per i lavori nelle scuole, 500 mila sono fondi PON, alte 300 mila del bilancio dell'ente. E per quanto riguarda asili elementari e media Belluno, il Comune vaglia le richieste per garantire i distanziamenti. Abbiamo un lungo elenco di necessità e richieste che sono arrivate dalle scuole e che i nostri uffici stanno vagliando, spiega il sindaco di Belluno Jacopo Massaro. Tutte le richieste devono essere analizzate sotto il profilo della fattibilità tecnica e delle tempistiche, perché il calendario dice ormai fine luglio e a metà settembre suonerà la prima campanella. Tempo per fare lavori di una certa complessità ce n'è sempre meno. Ricordiamo che si parla di provincia, perché è la provincia da avere la competenza per le scuole secondarie di secondo grado, le scuole superiori, mentre il Comune si sta occupando delle questioni relative ad asili elementari e medie. Continuiamo con la lettura del Corriere delle Alpi e andiamo alle pagine del Feltrino, saltiamo l'inserto. L'emergenza sanitaria, in questo caso parliamo del Covid. La notizia è stata comunicata ieri dall'Ulss, operatrice positiva al Covid nella casa di riposo di Fonzaso. Un centinaio tra ospiti e colleghi sottoposti a tampone, parenti in quarantena, scoperto anche un anziano turista e verifiche su due villeggianti romani. Il bilancio diffuso ieri dall'Ulss, il bilancio delle ultime 24 ore, non è stato molto positivo, visto che ci sono riscontrati due casi di positività e sono quindi aumentate in modo abbastanza consistente le quarantene e il numero di soggetti che verranno sottoposti a tampone. Un riscontro casuale di Covid soggetto asintomatico nei controlli di routine sul posto del lavoro si è avuto per un'operatrice socio-sanitaria della casa di riposo di Fonzaso. Come da protocollo, dunque, saranno sottoposti a tampone i 33 ospiti della struttura residenziale, relativamente pochi, visto che la RSA è stata compartimentalizzata per piani distinti. Ma i colleghi di lavoro che dovranno sottoporsi a tampone per contatto sono ben 64. Per i sei contatti familiari dell'operatrice contagiate è stata attivata la quarantena con sorveglianza attiva. Quello di Fonzaso è il caso più eclatante per numerosità di persone coinvolte dal rischio potenziale di contagio delle ultime 24 ore. Un altro riscontro casuale, però, è stato fatto in un paziente che non presentava alcun sintomo simil-influenzale è stato quello di un anziano turista del Bellunese che si è rotto il femore e gli è stato somministrato il tampone prima dell'intervento, tampone che ha risultato positivo e quindi è stata attivata la quarantena per 16 contatti che riguardavano gli ambienti frequentati dal paziente e 6 contatti invece che riguardano l'ambito familiare. E poi ancora il Dipartimento ha prescritto l'isolamento domiciliare di 7 persone con sintomatologia simil-covid in attesa di tampone e la stessa procedura si è messa in atto per 7 soggetti che sono rientrati dall'estero. E ancora due persone che risiedono a Roma ma sono in villeggiature in Cadore sono state sottoposte ieri mattina a tampone perché nell'aereo dove si sono imbarcate si è riscontrata una positività emergente. Ci sono buone notizie invece sul fronte del focolaio innescato dall'anziana Kosovara venuta in Italia ancora quasi tre settimane fa per un breve ricongiungimento familiare. Ieri mattina sono stati dimessi da San Martino l'anziana già ricoverati in condizioni serie e anche due familiari residenti nel Bellunese che sono sintomatici ma con positività residua. L'articolo è di Laura Milano. Andiamo avanti Siamo, rimaniamo sempre a Feltri in questo caso all'ospedale dove a sostituire Michele De Boni il medico scomparso prematuramente a gennaio di quest'anno è arrivato il medico Andrea Buda L'Uls nomina Buda gastroenterologia ai nuovo primario il medico ha maturato un'importante esperienza a Bristol a Feltri dal 2017 ha contribuito all'ambulatorio infusionale l'articolo in questo caso è sempre di Laura Milano è arrivato a Santa Maria del Prato dopo un'importante esperienza all'Università di Bristol dove dal 2011 al 2012 ha avuto anche un incarico di posizione accademica in gastroenterologia Andrea Buda è il nuovo primario di gastroenterologia di Feltri nominato ieri dal direttore generale Rasi Cardogno nato a grado nel 1966 Buda si è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Trieste nel 1993 e si è poi specializzato all'Università di Padova quindi Buda prende il posto di Michele De Boni con il dottor Buda dice il direttore generale la gastroenterologia di Feltri continuerà ad essere un'eccellenza riconosciuta come riferimento regionale nell'ambito del centro Michele De Boni ringrazio la dottoressa Manuela De Bona che ha traghettato il riparto in questi mesi con grande equilibrio e responsabilità quindi in questo caso si è parlato appunto di sanità andiamo alle pagine di Cortina per la notizia che riguarda il cammino verso i mondiali 2021 si dimette il commissario Sant'Andrea il sindaco a ore avremo sostituto Ghedina annuncia che domani salirà nella conca il ministro dello sport Spadafora possibile che darà lui stesso il nome il commissario straordinario per i mondiali Luigi Valerio Sant'Andrea ha dato le dimissioni resterà in carica fino a fine mese da primo agosto subentrerà un'altra figura responsabile dei lavori per l'evento iridato del febbraio 2021 dovrà occuparsi di portare a termine i cantieri in corso e realizzare le opere di terzo livello tra cui anche la piscina comunale la notizia circolava da un paio di giorni a Cortina ed è stata confermata dal sindaco Gian Pietro Ghedina Sant'Andrea per il momento non ha voluto invece rilasciare dichiarazioni l'articolo è di Marina Menardi l'intervista a cura di Marina Menardi non dico nulla adesso ha spiegato con solito garbo ma tra pochi giorni sarò a Cortina e lì ci sarà modo di parlarne e confrontarci confermo la notizia ha detto Ghedina e molto probabilmente il nome si saprà già domani quando a Cortina arriverà il ministro dello sport Spadafora per incontrare l'amministrazione comunale la fondazione Cortina 2021 si parlerà anche di questo chiederemo che Sant'Andrea e il suo staff possano affiancare il nuovo commissario almeno in una prima fase viene chiesto a Ghedina se non è preoccupato per il fatto che Sant'Andrea lasci a pochi mesi dall'evento e ridato l'attività principale riguardo il mondiale è già tutta avviata ed è in fase avanzata risponde il sindaco manca la parte di cantierizzazione per le ultime opere la fase conclusiva ma tutto l'iter amministrativo e burocratico che è quello più complesso è stato portato avanti nei termini da parte nostra chiederemo appunto l'affiancamento per avere un minimo di garanzia di continuità la notizia ci ha colti di sorpresa non sapevamo che Sant'Andrea se ne sarebbe andato è invece la reazione dell'amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021 Valerio Giacobbi con lui abbiamo lavorato bene ci dispiace perdere a sette mesi dall'evento ci sarà un'altra persona che lo sostituirà che io non conosco ma immagino porterà avanti con determinazione il programma chiudiamo il Corriere delle Alpi e andiamo ad aprire il gazzettino e leggiamo subito le notizie inserite nella sezione dedicata alla provincia di Belluno appello alle imprese alleatevi leggevamo prima la notizia proprio sul Corriere delle Alpi in aprile cifre disastrose Confindustria indica la strada per la ripresa fondamentali le aggregazioni di aziende il direttore Ferrazzi non è vero che piccolo e bello spesso è un freno alla produttività e all'innovazione ha detto appunto il direttore di Confindustria la foto di copertina è dedicata ad Auronzo il comune stiamo risolvendo il problema imprigionati sulla strada delle tre cime senza vigili ci dissiamo code chilometriche per raggiungere le tre cime i turisti protestano come un trevigiano con seconda casa ad Auronzo intrappolato lunedì che ha inviato una segnalazione a comune prefettura e Dolomiti UNESCO e poi ancora a Cortina albergo Ampezzo lo vogliamo riaperto vedere l'hotel Ampezzo a nuovo sarebbe una gioia a parlare sono le gemelle Pierine ed Elisabetta Menardi che per anni in quell'albergo ci hanno lavorato Elisabetta ne era la proprietaria da allora vicende avverse fino all'inchiesta che ha bloccato il cantiere il proprietario alla domanda se intende a non proseguire il coprogetto risposto non viene esclusa alcuna ipotesi spostandosi a Cencenighi in Agordino senza acqua tre frazioni e l'area luxottica ancora problemi quindi nell'approvvigionamento idrico di alcune zone di Cencenighi a secco Pradimezzo Vare Basse Faè e la zona dello stabilimento luxottica con 400 operai il territorio ancora le prese con i problemi inquinamento delle falde acquifere che alimentano acquedotti altro effetto di vaia come spiega il sindaco Soppelsa ad andare in tilt l'acquedotto del TORCOL case di riposo una dedicata ai malati covid l'ULS annuncia la creazione di una nuova struttura a livello provinciale l'ha detto Gian Antonio dei TOS andremo anche a leggere ora l'articolo lo obbligano a togliere le telecamere derubato questa è un altro lancio dalla prima l'articolo a firma di Olivia Bonetti per evitare una multa di 40.000 euro dell'ispettorato del lavoro ha dovuto togliere le videocamere esterne del sistema di sorveglianza della sua impresa florovivaistica mancava un'autorizzazione e puntualmente sono arrivati i ladri così l'accordevole di Luca Viadenati a Santa Giustina è stata derubata di attrezze e furgone per un bottino totale di 18.000 euro il ride è avvenuto nella notte alle 8 di ieri mattina Viadenati ha scoperto quello che definisce il disastro siamo in piena stagione ho 6 dipendenti e mi trovo senza parte dell'attrezzatura lanciato un appello anche sui social segnalando la targa del mezzo scomparso e un lancio è dedicato ai funerali che si sono svolti ieri come leggevamo prima su Corriere delle Alpi funerali del giovane limanese Giorgio Favero al campo sportivo di Valmorel c'erano i suoi amati trattori la sua moto cani del gruppo cinofilo di cui faceva parte i volontari della protezione civileana donatori di sangue e di organi e alla fine una canzone di Ligabue come leggevamo prima andiamo subito all'articolo dedicato all'annuncio dell'URSS su una casa di riposo dedicata ai malati covid siamo alla pagina 5 dell'edizione di Belluno del Gazzettino una casa di riposo per pazienti covid l'idea è della regione ma l'URSS 1 Dolomiti rilancia una nuova struttura per ospitare gli anziani contagiati le reazioni del territorio tutto si deciderà al tavolo tra sindaco e prefetto già convocato per inizio agosto l'articolo di Alessia Trentin una casa di riposo per il covid 19 l'idea è della regione ma l'URSS 1 Dolomiti rilancia costruiamo annunciato ieri in una riunione dedicata al tema direttore dei servizi sociosanitari Gian Antonio De Tos una struttura nuova per questi pazienti dovrà essere un centro servizi per anziani a valenza provinciale naturalmente in grado di accogliere tutti i non autosufficienti positivi al virus in tempi di non pandemia invece sarà una casa di riposo come le altre la notizia è stata annunciata ieri in occasione dell'incontro gestione della pandemia da SARS-CoV-2 stato dell'arte prospettiva post emergenza nei centri di servizio residenziali penanziani del territorio della provincia di Belluno a cui erano stati invitati i rappresentanti delle strutture del territorio l'occasione insomma per fare il punto sulla situazione dopo i mesi difficili dell'emergenza per ribadire i numeri della pandemia e capire come organizzarsi per il futuro le direttive arriveranno dall'alto questo è certo ma l'Ulsono sta già riflettendo sul tema ipotizzando scenari futuri ricordiamo che anche nei mesi scorsi scusate nelle scorse settimane è emersa la questione delle difficoltà di reperimento di infermieri e di ossa all'interno delle case di riposo molti tendono a spostarsi nel pubblico quindi ad andare a lavorare in ospedale svuotando così di personale le strutture residenziali per anziani una situazione difficile che è stata sollevata anche dal primo cittadino di Belluno Jacopo Massaro oltre che dai direttori di diverse case di riposo del territorio provinciale Primavera da incubo allearsi per ripartire è il titolo che il il gazzettino dedica al primo incontro alla LUIS che si è tenuto appunto nella giornata di ieri in cui Confindustria ha presentato l'esito del suo sondaggio mettendo in evidenza le difficoltà che stanno vivendo le imprese ed è stata sottolineata la necessità di allearsi di aggregarsi per poter superare la crisi e ripartire la pandemia accelera le dinamiche genato digitalizzazione deglobalizzazione e ridifinizione delle catene del lavoro ad occuparsi della tematica è Andrea Zambenedetti andiamo avanti un secondo che il caricamento si è bloccato ieri sera lo show che avrebbe dovuto tenersi quello di Alvaro Dalfarra Musk to Ride è stato annullato per pericolo assembramenti il tour solidale Musk to Ride fermato solo all'ultima tappa nel centro città salta l'evento del campione freerider Alvaro Dalfarra al momento non sappiamo le motivazioni ci è stato comunicato ieri mattina fa sapere lo sportivo ai suoi fan ma l'assessore al turismo del comune di Belluno Yuki De Miglia risponde ho spiegato le ragioni ci sono problemi di sicurezza insomma Musk to Ride in piazza dei martiri ieri non c'è stato il progetto partito dal centro per disabili di Cusighe ha percorso l'Italia ieri avrebbe dovuto fare tappa a Belluno città di Alvaro Dalfarra dopo aver consegnato oltre 50.000 mascherine e centri disabili sparsi per il paese fermandosi in otto tappe il progetto prevedeva una festa finale nel capoluogo e il consorzio Belluno Centro Storico lo aveva inserito all'interno del calendario di Belluno di sera ma all'ultimo l'amministrazione ha detto no le motivazioni sono legate al rischio assembramenti a confermaglio è Yuki De Miglia nella serata di ieri siamo tramortiti il commento di Massimo Capraro del consorzio dei commercianti la non autorizzazione c'era stata anticipata verbalmente mercoledì sera ieri è stata formalizzata non so cosa dire si trattava solo di una recinzione con Dalfarra all'interno sulla moto non si prevedevano pedane nei grandi esibizioni tali da tirare molto pubblico ma il pubblico si sa ci sarebbe stato comunque perché non manca mai agli appuntamenti serali del giovedì in piazza scrive nell'articolo la S30 amareggiato anche Dalfarra che ieri ha diffuso l'informazione con una nota in cui non fa segreto della derusione restando sempre a Belluno nel comune capoluogo rondini più nidi via all'operazione contro il guano mentre il censimento registra un notevole aumento di nidi abitati nella città delle rondini è stata avviata l'installazione dei tappetini anti guano province e comuni di Belluno hanno cominciato ieri pomeriggio posizionamento dei tappetini sotto i nidi di rondine presenti in centro storico l'iniziativa rientra nel progetto a tutela dei volatili e a promozione della città c'è da sottolineare bisogna ricordare che si tratta di tappetini lavabili e il messaggio riportato in due scritte proprio su questi tappetini è guarda in su noi abitiamo qui riferito proprio alla presenza di un nido e poi ancora Belluno protegge le sue rondini in fondo i luoghi di comune provincia e confcommercio che partano del progetto e nel pomeriggio durante il giro di sopraluogo comune provincia con il supporto della riserva alpina di caccia di Belluno hanno installato una ventina di questi tappetini sotto i portici di piazza delle erbe piazza dei martiri via Roma via Matteotti e via Tasso con i complimenti degli esercenti che sono rimasti quindi che hanno apprezzato l'iniziativa leggiamo ancora un paio di articoli e poi chiudiamo la rassegna stampa di oggi andiamo ad Auronzo dove c'è la questione delle code imprigionati in coda nessun vigile la protesta di un trevigiano con seconda casa d'Auronzo bloccato lunedì nel traffico senza controlli verso le tre cime ha inviato la sua segnalazione al municipio Dolomiti Unesco e Prefettura la circolazione in tilt per ore così si inquina ha detto appunto questo residente questa persona che ha una seconda casa ad Auronzo ci risiamo code chilometriche per raggiungere le tre cime i turisti protestano come da parecchi anni a questa parte in estate si assiste a un inarrestabile crescendo da flusso di automezzi a Misurina soprattutto per salire i parcheggi ai piedi delle tre cime di Lavaredo nei pressi del rifugio Auronzo e la viabilità locale ne soffre con code chilometriche dal casello di pagamento dei parcheggi spesso esauriti fino alle 9 del mattino giù fino a Misurina e ancora più giù sia in direzione di Carbonin per chi è proveniente dalla Val Pusteria sia verso Auronzo e Cortina di qui sorgono inevitabilmente i mugugni e gli improperi di quanti si trovano imbottigliati nel traffico la testimonianza appunto è di un cittadino trevigiano che ha un appartamento ad Auronzo di Cadore e che dopo quanto accaduto lunedì quando si è ritrovato in coda ha inviato una mail di protesta in municipio indirizzata anche alla prefettura di Venezia e Dolomiti Unesco spiega di aver notato un totale disinteresse del territorio da parte dell'attuale amministrazione civica e racconta che lunedì 20 luglio si è trovato con migliaia di auto incolonate per ore in attesa spesso in vano di raggiungere i piedi delle tre cime con l'assenza fino alle 11 di un qualche controllo da parte delle forze dell'ordine comunali lasciando gli automobilisti incolonati per diversi chilometri con auto parcheggiate ovunque attorno al lago di Misurina nei prati nel sottobosco inquinando non poco il fragile ecosistema dolomitico con oli e benzine di cui l'accusa supportata da foto di lasciare consapevolmente la circolazione in tilt per ore con le auto che all'incrocio stradale provinciale 49 e strada delle tre cime bloccassero completamente la svolta e o l'inversione di marcia nel municipio oronzano di via Roma dove è stata anche fatta recapitare la missiva hanno fatto presente che il problema è annoso che l'attuale amministrazione capitanata da Tatiana Paispecker ha in grande considerazione il problema tanto che ha già preso le contromisure con l'edizione di un bando già assegnato per la dotazione tecnologica e strumentale tale da mitigare appunto questa criticità la soluzione adottata è principalmente quella dell'installazione di una segnaletica luminosa che indica il tempo reale fin da Misurina il numero dei posteggi disponibili non solo ma il nuovo sistema di gestione parcheggi prevede anche quelli della Loita con compressivi 190 punti di sosta per campere e veicoli oltre a quello del lago d'Antorno che prevede la capienza di 120 vetture con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa vi aspettiamo puntuali come sempre anche domani mattina e vi invitiamo per la giornata di oggi e ovviamente anche per i prossimi giorni a seguire le notizie che vengono pubblicate costantemente sul sito internet www.amicodelpopolo.it intanto grazie a tutti ancora per l'ascolto buon venerdì buon fine settimana e a prestissimo grazie grazie a tutti